andiamo a fare questo bel pic amici del tubo benvenuti dal cugino come sempre re delle pentakill e maestro degli esperimenti andiamo a sperimentare in questa landa con questo bello xin ap sapete già uno dei pic miei preferiti con cui cimentarsi in queste calde serate con queste robe fuori dal meta vediamo se work ancora che cazzo è ok forse work a poco me ne vado o no work a work and forse meglio non esagerare con le lozioni ho messo armor alla fine nel rune perché abbiamo contro ion e kane e samira che fanno danno fisico e soltanto due danno magico e indovinate i mostri della giungla che danno fanno fisico quindi armor e mente 5 gold capito capito si si samira ma questo è molto bello molto bello immagino che tu abbia un bel da fare ok se ci muore vediamo cosa ne penserà il team del fatto che io farò xin zao mago di solito quando vedono xin zao ap si arrabbiano sempre ma che cazzo fa sto stronzo il problema è che effettivamente pensandoci cioè fare xin zao ap in questo caso non è molto work perché abbiamo tutti ap cioè lille ap vladimir ap zair ap troppa gente ap siamo però non importa io volevo fare questo e lo farò comunque che cazzo me ne frega di quello che fanno gli altri oddio che strana animazione vladimir patto violata è nuovo questa skin non l'avevo mai vista riescono a fare ancora cose nuove su lol e a stupirmi incredibile peggio per i miei compagni perché io comunque anche se faccio ap le spell in teoria fanno lo stesso danno fisico e a parte la e ma la e comunque conta poco come danno il mio obiettivo non è tanto fare danno magico ma curarmi dato che non l'ho presa cioè lui è venuto invadermi e stava prendendo il cazzo oh e adesso invadimi meglio la prossima volta adesso mi fotto il tuo buff mi troppo vuole mal com'è che era il detto non lo so l'obiettivo è di avere una torre senza i minion esatto come in passato davide ma allora tu te ne intendi io ho scoperto che mi segui soltanto dal torneo di minecraft prima non ti conoscevo scrivi poco non ti chiamavi davide ti chiamavi magari luigi che ne so ok troppo vuole mal comune non me lo ricordavo così andiamo a invadere noi stavolta perchè lui sarà sicuramente lì oppure no dove cazzo è? R non ha ancora presa è strano penso che nessuno l'abbia presa che dici li ammazziamo? a posto direi è troppo forte lo Xin Zhao WP mazio e non abbiamo ancora buildato a P tempo di farlo potere magico oggetto non consigliato non c'è la stellina sopra mannaggia e vabbè lo facciamo ai 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 ora ragazzi attenzione perchè la passiva ripristina 58 di vita ogni terzo colpo ripristiniamo 60 HP la mia WP fa fino a 214 danni e la E fa 76 non è niente per ora perchè abbiamo solo 44 di AP però intanto capiamo che è meglio di zero prima faceva 50 adesso fa 26 danni in più questa scala un po' meglio eh sì a posto vediamo se troviamo Kayn qua a fare questo l'ha appena finito sarà in questa zona probabilmente sta rifacendo i piccioni o sta andando dai golem la Pixin? yes I'm a mage ok vedete se ne sono accorti ops sì niente non approva Ash e vabbè il troppo vuole vuole troppo slow adesso finalmente ti vedo ma tu slow scrivevi su Twitch perchè io ti vedo sempre i tuoi commenti però Twitch non so chi sei il troppo vuole non la stringe è vero che magari uno vuole un sacco di pupazzi però non riesce a stringerne nemmeno uno ok si ganca la mid lane male perchè lui è dall'altra parte però si ganca la mid lane lui a tour e tour ha fatto il ghost questi danni ce li prendiamo volentieri e adesso si ganca anche la bot lane e anche la jungle ganchiamo tutto questo ganca è stato continua ancora a gancare vabbè quello resta là arrivo Vladimir salvati tanto ho già ultanto quello quindi non fa niente è innocuo Ziggs e no invece non è innocuo ma che cazzo quanta gente c'è sono un mago sono un mago aiuto aiuto curato bene a posto grazie ma secondo voi arriva anche Ione io me ne vado cioè potrebbe succedere di tutto qua bisogna aspettarsi l'inaspettabile nessuno ha detto più niente Asha ha detto puntini puntini proprio disapprova molto i puntini sono proprio un segno di tipo ma guardate sto coglione mi deve intare proprio la promo ma ci sono ancora le promo? vabbè quello che è eccolo all'islaw eccolo qua ben arrivato bam e ho fatto proprio la sub camice del tubo eh dove che cazzo chi è? cosa stai facendo qua? ma come mai mi ha spostato a me? mi ammazzo tutti mi ammazzo tutti io mi curo guarda devono scappare perché io ho troppe curi cioè mi sono arrivati addosso la ulti di Zix Kayn olè e pure Ione ma non importa questo xinzhao ragazzi è veramente potentissimo una potenza subatomica mi cura troppo ragazzi ogni terzo colpo mi curo di 95 cioè non è tantissimo 104 più 104 più 27 e poi faccio anche 23 addirittura danni extra mamma mia terzo colpo letale meglio stare attenti oh che fa tu? che fa tu? che fa? forse sto esagerando forse si ma io dico una cosa ragazzi gold reset e ne dico anche un'altra così surrendano meno a posto basta dire basta dire queste due cose e si è tranquilli anche nell'inting attenzione però 3-0 Samira questo ci piace meno ci piace un po' un poco meno le scarpe di solito cosa facciamo? sempre l'attack speed sì per avere più per far più spesso il terzo colpo e curarci di più 111 e tra l'altro adesso i miei attacchi base iniziano a far danno magico ovviamente troppo presto per vedere resistenza magica buildata dai nemici quindi mamma porca troia ora abbiamo la musica in game lì di livello rilassante non sentivo la musica di lol dal 4 ottobre penso ok ehi cos'è successo? l'ha preso? l'ha preso l'ha preso arrivo arrivo quanto sta lì ancora mezz'oretta? ue ue a posto mi piace se mi raffullo? grazie intanto però la mia botta è morta cioè Asha ha fatto una bella ulti però purtroppo è diventata cadavere è deceduta ma non vi preoccupate mi prendo un bello shutdown arrivo non vedo l'ora oh si 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 sei mia Samira sei mia sei mia dammi i soldi mi stanno poccando i due maghi tre maghi i re maghi ok forse se ultavo non mi facevano danno pensiero subatomico arrivato dopo 4 ottobre del 2017 però esatto non abbiamo specificato di che anno i re maghi oh serie di uccisioni unico serie di uccisioni interrotta molto bello oddio mamma mia cos'è cos'è quella roba mamma mia quelli li voglio li voglio assai mamma se li voglio aspetta magari ci sono se vado lo uccido ma muoio quindi direi di no basta sono morto già due volte sono stancato però ho lutato quindi va bene comunque guardate oh full vita il drago che non poteva uccidermi 900 di danno e non farlo smite calcoliamo 3 2 1 plà e ok adesso lui dovrebbe forse farsi il red o forse l'ha già fatto scopriamo subito allora è qua ah incredibile e siamo a 19 verso i due anni serie di uccisioni del minuto no hai ucciso un minuto tecnica del finto afk e muore perfetto la tecnica del finto afk funziona sempre fa morire queste cose tigno sazio grazie di 19 mesi bentornato ops che è successo lux non te l'aspettavi ti hai provato ma non è andata bene riprova chissà se secondo me si dice ma cosa è successo è crashato lì vabbè allora gli faccio l'altra q tranquillo perché abbassano la guardia quando ti vedono fermo no poi poi chiediamoci perché sorridiamo no ragazzi non posso non sorridiamo siamo sotto noi di kill l'unico ad avere le kill è xinzao il mago 1-6 1-3 ai 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 fanno schifo tutti quanti 1-3 anche top lane siamo senza top siamo topless allora arrivo calma e pazienza buongiorno lei ha rotto il cazzo deve morire io ho troppe cure per lei mi dispiace bene vedo che ci capiamo velocissimo senzao le mage adesso con l'ash che mi faceva i puntini è 1-6 è quella peggiore della squadra abbiamo trovato chi riportare del lei di ash i'm a mage and i'm 10-2 happy now senza l'h senza la o eh avete capito allora prossimo item sarebbe rabaddon però non so se ce l'ho i soldi vabbè aspettiamo per ora non abbiamo fretta ho tramato tutto ecco buonasera almeno i miei ci sono sempre shut down così farmi più gold è vero è comodissima questa cosa ma perché ha risultato subito la wave cioè questo è il suo obiettivo zix ma che merda dopo gioco io zix gli insegno a giocare anzi no sennò poi diventa forte noi vogliamo che resti qui con noi andrò a luca comics vestito finalmente da dart vader io no sarò soltanto a milano games week ho già comprato i biglietti l'unico problema è che se dovessi vincere il trinity e arrivare in finale i biglietti me li danno gratis quindi se li vinco i biglietti in più che me ne faccio li devo vendere a qualcun altro tra l'altro ragazzi domani è halloween e marghe vuole farmi vedere un horror al cinema penso che possa essere una delle esperienze più brutte della mia vita ma le dirò che sarò molto felice di passare Halloween con lei sono un bravo fidanzato non diteglio speriamo non mi abbia sentito e basta sì cosa vuole io sono xinzhao il mago non sei riuscito a uccidermi bravo scappa prendiamo full vita stare così a me non piace guardate qua più 300 di vita ogni terzo colpo vedete è una cosa che si fa proprio fatica a uccidere 200 hp questo è venuto qua a toccarmi questo è pentito se l'avessi preso con la v era morto peccato bene ci ne va andiamo facciamo ancora un paio di campi che voglio questi due oggetti 2005 costano no a me non piacciono gli alo ragazzi mi spio i manager hanno organizzato una festa sono tutti super contenti tra le stesse robe varie io andrò per mangiare ognuno ha i suoi obiettivi nella vita speriamo li raggiungerete anche voi poverino hai visto? sì però sono molto carino torno a vendere olio me ne sarò mangiare da qualche parte vedi anche a te non piacciono brava ragazzi ma come fanno a piacere gli oro io non ho mai capito cosa ci trovano le persone scusa guardati un bel film bello cioè oh che bella questa storia dove vengono tutti squartati mamma mia mi piace troppo la rivedrai mille volte ma perché cosa c'ha di bello ma devi essere psicopatico per piacere una roba del genere è psicopatica Marg aspetta così fa ridere no no è veramente così ah questa storia che parla di fantasmi mamma bellissima cose strane che succedono in questa casa wow fantastica non ci ho mai trovato niente ragazzi voglio vedere i film di genere bello eh sì 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 oh amici ma qualcuno sta giocando oh vabbè 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 ti hai fincato di venirle a fare e poi non sei venuta ma va a cagare il culo te li stavo rubando ti ho salvato al culo peccato 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 ma va bene ci prendiamo pure il rabadon mi dispiace per questo drago qua perché sarebbe stato 3% ma non dà niente come 3% vabbè lo non mi dispiace madonna non esiste più questo drago non mi ricordai prima non era 5% 6% con la metà questo quanto dà però questo ci aumenta le guarigioni e gli scudi attenzione aspetta ma le guarigioni anche autoguarigioni questo non lo so perché in questo caso è molto buona questa cosa che è capitata questi draghi sì sì i draghi si fanno cacare un nemico è stato ucciso ma scarlete qualcuno lo gioca? sì c'è Gian Giacomo di là forse lui lo gioca l'altra volta mi forzarono a vedere De Congel inutile dire che lo so stato tutto il tempo con il telefono in mano che mi stavo cagando sotto eh pensa che Marghi dice che è uno dei più belli voglio farmelo vedere è bello perché c'è gente squartata appunto ma che cosa c'è di bello nel vedere la gente squartata? ma che me ne frega di vedere le viscere degli altri wow che è in blu con la build blu solo ora noto non è un purple cane finchia incredibile mi ricordo quando sbagliavano sempre ah che tempi come crescono in fretta oddio muoio molto puttana ma che cazzo è successo qua au questo è brutto forse se avessi il tato subito non mi avrebbe ucciso qua non me l'aspettavo sinceramente tutto sto bordello mi hanno preso la sprovvista devo ammettere che la tecnica del non guardare è stata devastante attenzione ulti da parte di Ione e Vladimir va in pozza gli toglie tutta la vita si le cura sta arrivando anche Lilia che gli lancia delle palline Lilia muore come un cerbiazzo gli animali fanno questa fine dopo tutto viene risucchiato ma no muore anche lui cazzo che schifo di team attenzione ulti di Ash che va dentro ai muri e basta inutili tutti quanti e Ash muorirà anche adesso perché anche lei guarda cosa faccio cosa faccio cosa faccio cosa faccio l'altro persona ha 10.000 abilità io invece sono un campione vecchio ecco qua ragazzi questo è il sunto della situazione stavo pensando di prendere al posto della danza della morte che comunque non è male attenzione ricordiamo di prendere la visage però vediamo se cosa altro possiamo prendere di ap ehi la madonna c'è sta lux costantemente bene bene tritata sapete quanto mi manca ragazzi la guinso non mitica in questo momento avrei buildato la guinso e sapete quanti attacchi avrei potuto fare già guardate che attacchi spin però vabbè purtroppo l'hanno messa mitica sarebbe stata una bella build io ho una skin di x inziamo molto ficca ma non è non so giunglare e allora usalo tipo mid o top puoi comunque fare un picco un po' fuori dal meta un esperimento come faccio io ok andiamo dal drago fuori dal tunnel del meta ma non c'è nessun drago ragazzi sono 30 secondi ma mi avete abitato molto ok faccio questo lo smite ho anche così se perdo il drago dico eh ma non c'è lo smite è la scusa dei jungler nabi quelli bravi se lo tengono per gli obiettivi eh guardato non ci importa una sega non ci fate niente va bene va bene va bene troppa gente purtroppo adesso sto comprando armor perché loro fanno più danno fisico che magico però comunque vedete che anche i danni magici sono ingenti infatti dopo questo prendiamo anche la visage già oggi ho ricevuto non pochi insultini poi sbagli qualcosa ti augurano 30.000 malattie eh sì funziona così su questo gioco ragazzi non si deve sbagliare è molto semplice cioè ma che cazzo fai perché sbagli non sbagliare e sei a posto sbagliare su lol è illegale beh guarda che potrebbero anche arrestarti arrivano lì la polizia arriva a casa che cazzo hai fatto è fiddato su lol ai 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 così almeno penso che sia in Corea perché se no non si spiega come mai sono tutti bravissimi forza forza ultate ultate ha presa in pieno mamma ragazzi purtroppo il team è inaffidabile ma Xin Zhao non importa Xin Zhao ci pensa lui ecco avessi trovato questa come squadra nella partita di prima avremmo visto dei bei one punch ma va bene così ok ok andiamo dal red stanno facendo baron sicuro raga venite qua per favore tutti visto ho ragione qualcuno c'era mi ha fatto tipo jumpscare non si sa perché oddio la bot lane vado io ragazzi poverino è stato reportato per indica ed è stato bannato per settimane perché stava provando un champion in draft l'ha provato molto male i campioni si provano bene ma chi gli ha insegnato a provare i champion non di certo io mi discosto da queste cose le schivo tutte intanto il mio team è morto mentre io facevo 1v2 loro erano 4v3 oh grandi morti tutti e vabbè si ecco con un po' di cura io torno sempre full vita molto bene tanto arriverà a un certo punto in cui posso stare sotto le torri e non subir danno ok è quello il nostro obiettivo arriviamo lì e niente sarò la macchina definitiva di distruzione torresca siamo top lane uh è arrivata la ulti eeeh patatrack intile allora Ione è forte la comporta pure magic race guardate ne ha comprata tanta ha capito che se prende magic oh no ho preso riduzione cura riduzione cura riduzione cura come faccio hanno tutti riduzione cura ragazzi marderda mer merda cazzoni no ragazzi due nemici bot in forza aiutatemi qua pusciamo fastissimo peggio di così non si poteva fare abbiamo perso sia l'inibitore sia il baron sia il fight tutto terribile terribile eh ma non posso fightare ragazzi non faccio danno al signor Ione io troppa magic resist sicura mi toglie le cure e subisce meno danni da me è una combinazione troppo potente l'avevo detto dall'inizio del game che xinzao ap con un team full ap non è il massimo però giustamente volevo giocare questo ma chi cazzo gioca a pitop e mi chiedo io dopo lo faccio io a pitop ciao Liza grazie mille dei quindici mesi bentornata qualcun altro che si era abbonato che non mi sono accorto l'ho ringraziato e che adesso si canta in colpa e dirà cugino vaffanculo no ok bene o male grazie Liza andiamo verso boh da qualche luogo timo graspo il top del fastidio estremo eh madonna eh sì ma come pensi di farmi del male scusami che tanto guarda faccio così ma torno full vita subito ma ci cammino sopra le tue trappole che cazzo me ne frega a me perché adesso faccio così e mi curo no ma che cazzo è questo vedete che subisce pochissimo danno oddio se tiravo un altro hit lo mi curavo vabbè sto pensando i miei danni alla fine che danno sono cioè io sì faccio danno D ma faccio anche danno P purtroppo terribile raga terribile un team inguardabile ai 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 peccato 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 volevo vedere più potenza volevo una partita un po' più lunghina volevo fai dare un po' di più vabbè lo stesso non è meglio Guinso e sarebbe stato bello farla Guinso ragazzi ma non si può farla Guinso troppo hanno rovinato un po' il pick quando hanno tolto hanno messo la Guinso mitica perché io facevo sempre Sagoma Land e Guinso ma vabbè lo stesso comunque è un signor pick l'Oxinzoppi è un signor pick cioè guardate come siamo stati belli sibaritici in un game dove tutto il mio team era catafratto e proprio non preso tutto quanto tutti quanti il cazzo io invece ero lì che smangolavo a destra e a sinistra cioè i nemici stavano gronzolando dalla paura dalle cure e vabbè purtroppo è andata Mario onoriamo Zyra perché ha le tette grosse non ci sono altre spiegazioni molto bene vabbè ragazzi Lilia Toplane schifo Ash inutile però le guarigioni ragazzi le guarigioni sono state efficaci io volevo arrivare al punto di andare sotto torre e curarmi ma purtroppo non riuscivo ad andare oltre la base che mi spaccavano in due non riuscivo ad andare